Questo non so cosa per te. Ti riconosco. Se tu mi era nata possibilità... Tu non vai a Roma. Ho rilevato un'attività. Un ristorante. Si fa nata stronzata. Quello che deve succedere, succede. A Porto. Questa della chiami carbonara. Ho avuto un'idea. Tu vieni a lavorare per me. Levati. Così si brucia il fogherà. Decido tutto io. Menù, fornitori e brigata. Voglio assoluta autonomia. Prendere la cena. Da domani... Benvenuti al nuovo Picchio Blu. Che cosa ha preso il 9? Il piatto è come un quadro. Solo che il pittore usa i colori e noi gli ingredienti. Sì, certo. Non c'è una forma d'arte più pura della cucina. Mi ha detto questo e veniva dal cesso. Ho detto qualche roba. Senti, guarda, questo è il mio sogno. Trovatene uno tuo e levati dal cesso. Io un sogno mio non ce l'ho mai potuto avere, capito? Bravo. Ora sì. Per una volta che mi sono fidata, sono proprio una stronza. Fammi capire, prepari una cena a quelli che stanno venendo a ucciderti. Ti giuro, sto ancora aspettando. Mi sembra di essere finito. Fate fermo! C'è solo una speranza che funzioni. Sei cucino io. di realtà, partiamoci con il secondo del mondo. Siamo! Siamo! Ci saluto!